Allora, sono mistratto, selezionato. Di seconda, qui ci vedete. Ti avevo la seconda qui. Non lo faccio, non è tolto. Ti avevo la seconda C. Ti avevo la seconda qui. Ok. Quindi sono mistrati, tutti i lavori del progetto. La prima tentata, adesso, ora, la parma si è dire che c'è un po' di domani. La parma si è dire che c'è un po' di compagni, sono passato le carine, lo seguono l'anno, e ci è arrivato meglio a pensare che il progetto. Quindi, uno dei pochi, qui, che vogliono essere fatti, gli altri vostri compagni, gli altri pochi, è quella di prima parte dei nomi. La parma ci ha fatto, per cui abbiamo scritto, la parma non rilassa. D'accordo? Ma disp器 viola, gli altri son. Per cui l'anno questa pietra anche, e questa è la parma. Non alla fine, sì. È chiaro più tardi a noi. Allora, ora posso andare a fare toccate anche. Come diciamo a guardare il cinema della tua realtà, perché non ti pare che pensano molto. E lì si è inviata a fare questa cosa e, come, tutto… Io vengo a cuore che si è evitata sola, ma non va! Non so, non lo stiamo ancora… Non, non è, non lo stiamo ancora. Ma io, avendo una scuola… Grazie a tutti. 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 Dove siamo? E... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando... Grazie a tutti. 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 e... 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ...... ... 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 ...... ... 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 Grazie. Il senatore ha ricevuto il comando poi? Voi, 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 voi. Voi, 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 voi. Voi, voi. Voi, voi, voi. Voi, voi. Voi, voi. Voi, voi. Voi, voi. Voi, ovviamente, le conoscenze le conoscenze le conoscenze. Voi, voi. Voi. Cioè, forse facciamo questo discorso, perché ho capito che hanno la trame, però non è che forse riserva a me. Voi, esatto, cerchiamo delle strutture, delle strutture, delle strutture, delle strutture, non fate delle strutture, delle strutture, delle strutture, delle strutture, delle strutture. Sì, cercate anche di andare. E' una strutture? Non ha, ma sono in conti? C'è un'ottissima cosa. E' una strutture, di parlare di Polenari. Non ha sposti, di parlare di Polenari. Non si può sbagliare nulla. Esatto. Una struttura di torre, di parlare di Polenari. Non si può sbagliare nulla. Che sono pure da solo unire fuori. Ho fatto un'altra cosa, perché hai neppertato? Ecco. Ma infatti, per me non lo scerfato, ci sono dei maestri che, al posto di lei, ci sono dei maestri che si chiedono. Se fatele cose in modo sbagliato, se le fatele sbagliate, se le fatele sbagliate, ci sono i maestri che mi chiedono. Se le fatele sbagliate e venite sbagliate delle regole, tipo andate nel terminello delle ragazze e voi siete dei ragazzi, sarebbe altrimenti si trida, esattamente il daccio non si tritmato, non lo vedete? Ma c'è. Se volete provate, provate cose in modo sbagliato. Se volete provate, se volete provate, se volete provate, appare il risultato di risultato. Quindi, non è possibile, non è possibile. Cioè, se, suono, c'è un po' di risultato. Ma se, suonate, si fa un po' di risultato, non so' di risultato. Ma lo faccio anche a spiegare il risultato. No, non so' di risultato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.